Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vorrei parlarvi di una trilogia che ho recentemente riletto, una trilogia di cui vedo che tutti in giro sui vari social conoscono il primo volume, ma quasi nessuno sa che ce ne sono altri due dopo. L'autore di questa trilogia è Fred Ullman, la trilogia si chiama Trilogia del Ritorno ed è composta da un amico ritrovato, un'anima non vile e niente resurrezioni per favore. Io ho l'edizione della Salani, l'edizione intascabile che costa 5,90€, so che ce n'è in giro un'altra della Guanda, mi pare sui 10€. Questa è più un'edizione da battaglia, nel senso è trasportabile ovunque, puoi fargli tutti i maltrattamenti che vuoi, che il libro resta in piedi. Non so quello della Guanda perché non l'ho sfogliata, quindi non so dirvi. Allora ve ne parlerò velocemente perché ho mal di gola, perché non voglio fare spoiler, perché non voglio entrare nei dettagli della storia per evitare magari appunto di raccontare pezzi che non dovrei dire, caso mai qualcuno volesse leggerlo. Dunque, meno male tutti sappiamo di cosa parla l'amico ritrovato. L'amico ritrovato parla di Hans e Corradin, un ragazzo ebreo e un ragazzo cristiano che si conoscono a scuola negli anni 30, quindi quando parte la diffusione purtroppo delle idee antisemite con Hitler al potere, si conoscono e comunque decidono di diventare amici. Fanno proprio di tutto per attirare l'uno l'attenzione dell'altro e diventare amici. Ci riescono, naturalmente, se no non ci sarebbe il libro. La loro obicizia è molto forte, soprattutto all'inizio. Tuttavia, andando avanti, Corradin, in quanto cristiano di famiglia cristiana e soprattutto di famiglia abbastanza importante, in determinate situazioni sarà costretto ad avere determinati comportamenti che Hans purtroppo percepirà come quasi dei tradimenti all'amicizia. Poi Hans sarà costretto, ovviamente, ad abbandonare la Germania e solamente alla fine avrà invece la dimostrazione del fatto che quella di Corradin era davvero un'amicizia sincera. Mentre nel primo volume abbiamo, diciamo, il prima della guerra e il punto di vista di Hans, nel secondo volume abbiamo un durante la guerra e una lettera di Corradin che spiega ad Hans il perché dei suoi comportamenti. Cerca di non giustificare, ma appunto fargli capire che quei comportamenti, in quel determinato momento, in quella determinata situazione, erano necessari anche per proteggere effettivamente la loro amicizia. Quindi abbiamo un rivaltamento della situazione, perché se magari leggendo la prima storia, Corradin ci sembra brutto, cattivo, che fai queste cose antipatiche, nel secondo volume comunque andiamo a rivalutare quel giudizio, andiamo a rivalutare la situazione di Corradin in quel momento il comportamento che ha tenuto. Quindi in questo secondo volume lui dimostrerà che in realtà lui ci teneva davvero a quell'amicizia. Nel terzo volume, invece, non abbiamo più né Hans né Corradin, ma abbiamo un tizio, tale Simon, che non ho capito bene chi cavolo fosse, che per alcuni aspetti ricorda Hans, per altri ricorda Corradin, ma appunto non può essere né l'uno né l'altro. Siamo appunto adesso nel dopoguerra, e quest'uomo ebreo ritorna dall'America nel suo paese natale, in Germania, che è ovviamente sempre lo stesso. e lui ritorna per incontrare in particolare una persona, ma naturalmente se tu torni nel paese natale va da sé, che comunque troverai anche altre persone che conosci, e così ovviamente succede. Infatti incontra dei vecchi compagni di scuola, rigorosamente tutti i tedeschi, tutti i cristiani, tutti che hanno fatto cose durante la guerra, e ci rendiamo conto che esistono diversi tipi di tedeschi, nel senso che proprio nel gruppetto, diciamo, che si forma di persone che si incontrano a questa specie di raduno di compagni, ci rendiamo conto che ci sono persone che alla vista di questo Simon, iniziano a mettere un po' in discussione quello che loro sono stati durante la guerra, non tutti purtroppo, ma molti lo fanno. E questo ci fa capire che c'erano persone che, vabbè, erano veramente convinte, evidentemente gli mancava un pezzo di cervello, di quello che stavano facendo, ed erano anche a favore, tra virgolette, ma senza tra virgolette in realtà, erano a favore, punto. Però ci rendiamo anche conto che c'erano anche persone che, quello che facevano, cioè non si rendevano effettivamente conto di quello che stavano facendo, e altre persone che erano schifate, cioè quantomeno adesso, postumo, sono schifate dal comportamento che hanno tenuto durante la guerra. Quindi è bello vedere comunque che un po' la gente ci pensa, no? Un po' è una guerra che cavolo ha combinato durante. Quindi secondo me è importante che la gente non si fermi a leggere solamente il primo, che dà solo un punto di vista, racconta solo una parte della storia, ma secondo me bisognerebbe effettivamente andare davvero avanti e vedere anche cosa succede dopo, vedere scusate, vedere perché ci sono stati quei comportamenti, vedere cosa pensava la gente, perché agiva in quel determinato modo. Quindi è una lettura che io consiglio assolutamente a tutti. Tra l'altro si tratta di libri veramente brevi, perché sono 70 pagine ciascuno circa, quindi veramente si legge in un niente, la scrittura è sempre molto scorrevole, la storia è oggettivamente ingrippante e lo consiglio anche a quelle persone che magari evitano testi sul tema perché sono sensibili, io sono ipersensibile, ad esempio, ma proprio tanto, però questo è un libro che si riesce a leggere tranquillamente. Ho detto ciò, io spero di avervi incuriosita, spero di avervi lasciato la voglia di leggerlo, perché pur essendo piccolo comunque lascia tantissimo al lettore, cioè al lettore e alla persona, perché siamo lettori ma siamo persone. E niente, spero appunto di avervi incuriosito, fatemi sapere se qualcuno di voi comunque ha letto i seguiti, fatemi sapere se li leggerete, fatemi sapere come li avete trovati dopo che li avrete letti, fatemi sapere, non lo so, quello che volete. E noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!